Santiago de Cuba, un rum autentico cubano, con queste note leggermente pungenti ma molto speziate. Oggi vi presento dei prodotti fantastici, in abbilamento l'11 e il 12 anni per gli amanti di sigara, e una vera rarità il nostro 25 anni. E oggi, la Isla del Tesoro, un rum pregiatissimo e stimato dai governatori di tutto il mondo.